Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi sarà un video aggiornamento perché non faccio da tanto tempo dei video e ho fatto dei cambiamenti in allevamento Innanzitutto adesso non allevo più canarini ma allevo ondulati di colore e calopsite Allora qui sono stati dei cambiamenti perché adesso tutte le gabbie, che sono 12, sono da 55 cm Ecco qua Allora, e ci sono inoltre questi due gabbioni che ospiteranno due coppie di calopsite Già una è all'interno Questi gabbioni sono un metro di lunghezza per 50 di larghezza per 60 di altezza Ecco qua Allora, questa è sempre la solita voliera Allora, qui partiamo con la prima coppia È un verde alla chiara Ho messo da poco i nivi ma già alcune femmine hanno iniziato Ecco qua Questo è un verde alla chiara per femmina verde Con 5 uova, già 3 feconde Le altre sono state riposte da poco quindi ancora non si può sapere Qui abbiamo la seconda coppia Pezzato recessivo portatore di vino per Albina portatrice di pezzato recessivo E ha fatto il primo uovo Ieri Ok Questa è la terza coppia Ancestrale Per femmina Intermedia Serie verde Che è però all'interno del nido Ho messo il nido 10 minuti fa ma già Lo sta esplorando Eccola qui Poi qui abbiamo un ulteriore coppia 2018 Verde scuro Per femmina malva A cui ho messo il nido oggi Questa è un'altra coppia che si doveva riprodurre Però il maschio non è proprio in forma E questo pezzato intermedio Quindi aspetterò che si riprenda il maschio Oppure cambierò un maschio Perché è inutile fare una covata alla femmina con uova chiare Questa è un'altra malva Poi abbiamo un ulteriore coppia Sono entrambi nel nido Eccoli qua Con due uova E sono una pezzata Serie verde Pezzata dominante per maschio malva Eccoli qua Eccoli qua Infine qui abbiamo qualche novello 2019 Abbiamo un cobalto Due opalini Che sarebbero questo e quello E due comuni verdi Qui abbiamo la coppia di calopsite Che prima stava lì Sono due pezzati faccia bianca Il maschio maggiorato E qui abbiamo come sempre La voliera Con le calopsite Eccoli qua Lutina Pezzata estremo faccia bianca E un'altra lutina Eccoli qua Spero che questo video vi sia piaciuto Ricordo sempre di iscrivervi al canale Di mettere un bel mi piace Per altri video aggiornamento Spero di fare un video al più presto Con tante uova E tanti piccoli Ciao a tutti